Il quartiere Tamburi a Taranto ha ormai preso dimestichezza con la raccolta differenziata e la si fa bene, ma si può fare di più. Lo dobbiamo all'ambiente, lo dobbiamo a noi stessi. Così la municipalizzata Chima Ambiente Amio scende in piazza, letteralmente piazza russo, quella dinanzi alla chiesa di San Francesco de Geronimo, insieme ad una serie di associazioni che su questo territorio spesso abbiamo ritrovato a raccogliere rifiuti sparsi ad esempio per le spiagge e in giro per la città, ma anche a sensibilizzare sul tema come avvenuto nello scorso pomeriggio. In campo i volontari delle associazioni, così parlò Zara Busta, Lega Ambiente, Plastica Qua, Proloco Capo San Vito, Retake e Siamo Taranto. Non va dimenticato però l'abbandono indiscriminato di rifiuti in giro per la città. Un fenomeno sgradevole e degradante che tuttavia può essere risolto con l'impegno di ogni singolo cittadino e senza voler sempre puntare il dito contro gli amministratori che comunque mettono a disposizione, come ricordiamo ormai da anni, il noto numero verde. Noi stiamo avviando questa campagna di ascolto, ringrazio soprattutto le associazioni Il Meglio di Taranto, qui diciamo grazie e soprattutto questa campagna vuole sensibilizzare la raccolta differenziata. Si parla tante volte di ambiente, noi siamo qui, ci mettiamo la faccia. Su indicazione del sindaco Rinaldo Melucci l'idea è quella di migliorare questo servizio. Ci sono tanti pro e tanti contro, ma come si dice le rivoluzioni non sono mai senza qualche difficoltà. Abbiamo deciso tutti insieme di collaborare verso un unico obiettivo che è quello di sensibilizzare la cittadinanza di Taranto al rispetto per l'ambiente e soprattutto la raccolta differenziata che purtroppo non viene eseguita correttamente e non viene conferita correttamente. Grazie.